La prevenzione in medicina è la prima cura, soprattutto nei confronti di alcune patologie ad alta diffusione e senza sintomi apparenti come l'ipertensione o il diabete che ci facciano capire che ci stiamo ammalando. E proprio per quest'ultimo il diabete è mellito, visto il dilagante aumento a livello mondiale che la comunità scientifica ha ingaggiato una vera e propria guerra, soprattutto per scovare chi ancora non sa di essere malato e per poter intervenire precocemente. E anche qui in Italia la patologia è in crescita, i dati nazionali fino a qualche anno fa stimavano una prevalenza di circa il 5-5% e così è anche nelle marche, sembrerebbe che i dati più recenti questa prevalenza sia in realtà sottostimata, quindi i dati sono sicuramente maggiori, ma la cosa più preoccupante a mio avviso, ma non soltanto secondo me ovviamente, è anche le persone che soffrono di diabete e non sanno di averlo, quindi il cosiddetto diabete misconosciuto. Si stima che in Italia circa un milione di persone, quindi una cifra sicuramente considerevole, è affetta dalla patologia ma non facendo gli esami non sa di averla. Per sapere se si soffre di diabete o se abbiamo un indice di rischio elevato di poterlo sviluppare, in occasione della giornata mondiale del diabete il servizio di diabetologia di Marche Nord apre le porte ai pazienti per un test completo. E qua a Fano abbiamo deciso di aprire le porte della diabetologia, dalle 9 alle 13, le persone, non necessariamente i pazienti, ma magari i familiari, le persone in sovrappeso, tutti quelli che sono un po' a rischio di sviluppare il diabete, potranno venire e sottoporsi allo screening gratuito presso la nostra diabetologia. Faremo un questionario per valutare il profilo di rischio, valuteremo l'indice di massa corporea, quindi calcoleremo col peso e l'altezza, prenderemo il girovita per vedere se uno è un po' a rischio ecco cardiometabolico, la pressione arteriosa e faremo anche lo stick glicemico. E quindi valuteremo il rischio di sviluppare il diabete da qui a 10 anni della persona interessata. È gratuito, bisogna prenotarsi, come si fa per aderire a questa iniziativa? Lo screening è assolutamente gratuito, non c'è bisogno di prenotazione, dalle 9 alle 13 chi vuole si può presentare in diabetologia a Fano, padiglione A dell'ospedale. Ovviamente grazie anche alla direzione sanitaria del nostro ospedale che ci ha permesso di fare questa importante opera di sensibilizzazione e informazione.